prodotto dai cinestudi azerbaijan film gli agnelli soffrono dal caldo e l'erba è ormai tutta secca bisogna prepararsi a partire di buon ora l'autunno scorso ognuno dovette condurre un migliaio di pecore o forse anche più un mese di strada da fare ci si dovrà arrampicare sui valichi si deve essere prudenti l'importante è ridurre al minimo le perdite è sempre così prima di mettersi in viaggio i pastori discutono come andare all'alpeggio l'alpeggio un'alpeggio 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 il un'alpeggio 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 Sì, 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 sì! Sì, 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 sì! Sì, sì, sì! Sì, 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 sì! Sì, sì, sì! Sì! Sì, sì! 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 Sì!